La storia da non perdere domani con la diretta su Rai Sport U dalle 22, il Super Bowl a finale del campionato di football, l'evento che ferma di fatto gli Stati Uniti. Ne parleremo anche nel corso dello speciale in Sabato Sport dalle 15.50 su Rai 3, di fronte New Orleans e Indianapolis Colts, tra le cui fila gioca Pierre Garçon, un ricevitore di origini haitiane per il quale la serata di Miami avrà dunque un significato in più, un significato particolare. Dal nostro inviato Valerio Iafrate. La vita di Pierre Garçon si è trasformata il 12 gennaio. Il terremoto che ha devastato Haiti lo ha cambiato profondamente, lo ha scosso nell'anima, rovesciando le priorità della sua giovane vita di stella emergente del football americano. Nella tragedia di Haiti, Pierre Garçon ha ritrovato se stesso, le proprie origini, diventando tutt'uno con la terra dalla quale la mamma fuggì, verso gli Stati Uniti, la terra promessa, per consegnargli un futuro migliore, un futuro che Pierre ora vede chiaro davanti a sé. Giocherà il Super Bowl, da protagonista. È molto importante in questo sport giocare la finale, giocare cioè il Super Bowl. È una grande sensazione e vincere sarà ancora meglio. L'appartenenza ad un popolo non è un semplice fattore anagrafico. Garçon è nato a New York, è cresciuto in Florida, vive a Indianapolis, dove è diventato in un anno appena uno dei ricevitori di punta dei Colts, ma la sua anima è haitiana. Non ha mai smesso, dal 12 gennaio, di sfruttare la visibilità che gli regala il football per provare a restituire il sorriso alla sua gente. Sono molto orgoglioso di essere haitiano, di essere un rappresentante di Haiti qui. Sono contento che l'Italia stia facendo tanto per aiutare la mia gente. Dice molto di queste persone il fatto che siano venute qui per conto loro a aiutare la mia gente a sopravvivere in tutte quelle macerie. Anzi, non riesco nemmeno a dire quanto apprezzi quanto queste persone stanno facendo per noi. Comunque finisca il Super Bowl, Garçon ha già vinto e la bandiera di Haiti sventolerà ancora, alta, nel cielo della Florida, profonda nella sua anima.